... Libri TV, Riccardo Cristiano, siamo alla mezza all'Hotel Classi in compagnia di Richard Romagnoli che è praticamente il referente, direi io, dello yoga della risata in questo momento qui in Calabria e saluto Richard Ho ho ha ha come si saluta nel gergo dello yoga della risata perché ho ho ha ha è in realtà il suono della risata Quindi ho ho ha ha Fantastico Io vorrei chiedere a Richard innanzitutto che cos'è lo yoga della risata e da dove nasce lo yoga della risata e se ci può raccontare la sua esperienza personale di yoga della risata Nasce in India nel 1995 per cui 20 anni fa, un'idea meravigliosa del dottor Madame Kataria Questo laughter yoga come viene chiamato a livello internazionale Nasce da un'idea unica meravigliosa che associa lo yoga pranayama per cui l'antica arte della respirazione pranayama con tecniche di risata Ma risata intesa non come animazione da villaggio turistico che non ci sarebbe nulla di male o di cabaret Ma come proprio induzione che ci permette di sprigionare a livello proprio fisiologico per cui nel nostro organismo Quello che la scienza poi ha definito il cocktail della gioia Pertanto maggiore produzione di serotonina, dopamina Addirittura è stato verificato l'abbassamento del cortisolo, l'ormone dello stress Più ridiamo meglio stiamo La tecnica dello yoga e della risata permette di controllare la respirazione E di ridere soprattutto nei momenti più difficili della nostra vita Per ripristinare quel benessere che evidentemente ognuno di noi sta cercando Non a caso qualcuno sta ascoltando questa intervista Tra l'altro dovremmo anche spiegare ai nostri amici web ascoltatori Che voi vi rivolgete non soltanto a persone come me Ad esempio che hanno un lavoro e sono stressate tutti i giorni Ma siete andati nelle scuole, siete molto itineranti E quindi è una terapia direi io Una terapia del sorriso che comunque non è soltanto del sorriso ma guarisce l'anima Anche, diciamo che l'idea geniale appunto del dottor Madan Katari È stata proprio quella di portare lo yoga della risata principalmente in maniera assolutamente gratuita E oggi, e che sono trascorsi 20 anni In oltre 70 paesi nel mondo, anche l'Italia, ci sono numerosissimi club della risata Cioè punti in cui i leader e i teacher, come io personalmente qualifico In qualità di master trainer della Lafta Yoga University Hanno la capacità, oltre che il grande cuore Di aiutare le persone gratuitamente a liberare questa energia che si propaga con la risata La mia fortuna è stata quella, abitando in India, esattamente a puttaparti Di incontrare personalmente il dottor Katari E di formarmi direttamente con lui Cosa che continuo a fare seguendolo ovunque nel mondo Grazie a questo tour che è irrefrenabile Benissimo, poi tra l'altro io posso dire di partecipare in questo momento a questo workshop Giusto? Si chiama workshop, poi spieghi tu perché Ed è comunque molto coinvolgente Io invito chiunque a parteciparvi Perché una cosa è spiegarlo così, vederlo in un video Un'altra cosa è viverla All'interno di questo c'è molto l'aspetto emozionale Assolutamente si, perché non siamo solo componente del cervello in quanto persone E c'è anche una parte che è proprio quella molto importante delle emozioni Per questo è che stiamo portando avanti con il dottor Katari Anche lo sviluppo dell'intelligenza non solo emotiva ma emozionale La risata è qualcosa di assolutamente incredibile Poi quando viene associata alla terapia dello yoga della risata diventa un momento catartico Non ci sono controindicazioni nel lasciarsi ridere Le persone mi chiedono ma chi ha inventato la risata? E io rispondo credo il buon Dio Quando donò la risata ad Eva che vide per la prima volta nudo Adamo La risata innalza l'umore anche nelle circostanze più difficili E' vero che in Italia, anche qui in Calabria, ho girato tante scuole Gli studenti mi dicono, sai però a scuola mi dicono basta ridere, fai il serio Questa è un'associazione puramente negativa Agli studenti, soprattutto ai bambini, va spiegato con amore e gentilezza Che ridere è un dono divino Però c'è un momento per ridere, un momento per studiare Ma ridere nello yoga della risata non è mai deridere una situazione di dolore Anzi, grazie anche all'esperienza che sto facendo negli istituti di oncologia Osservo come i malati, gli ammalati di tumore Grazie anche alla tecnica terapica dello yoga della risata Stanno meglio, nonostante la prova difficile che stanno vivendo, riescono a bypassare Grazie di essere qui alla World Shock, che è questo training dove c'è anche yoga della risata ma altre tecniche E grazie soprattutto alla vostra associazione locale qui in Calabria, Prometheus Che è organizzata e diretta da queste due fantastiche psicoterapeute illuminate direi Oltre a chiettice di yoga della risata Angelina Pettinato e la dottoressa Grazella Mazz A cui va il mio grazie per essere qui Le ringraziamo anche noi, sicuramente riusciremo anche a intervistarle Prendendole dai tappetini che sono qui sparsi alle vostre spalle Poi comunque voglio ricordare che esiste un libro dove tu praticamente racconti la tua storia Che è appunto Ho imparato a ridere Esiste anche un DVD, oltre delle magliette che io comprerò sicuramente Perché il motto scritto sulla maglietta mi piace molto Ho ho ha ha, giusto? Quindi ridiamo Quindi io ti ringrazio veramente Dai qualche contatto, qualche riferimento Così che ti possiamo trovare anche se sei già girovago, giri il mondo si può dire Certo, quello che ci tengo a sponsorizzare Tra virgolette è proprio il fatto che qui in Calabria c'è questo gruppo Questa associazione Prometters che è fondamentale, meravigliosa Spero di ritornare quanto prima in Calabria Perché il messaggio che è passato in questi quattro giorni di mia permanenza In questa terra spropositata, meravigliosa e anche di più È il fatto che ho osservato che i calabresi per primi non sono consapevoli delle bellezze e delle eccellenze locali Alle volte i calabresi si lamentano per il fatto che gli italiani non conoscono la Calabria O qualcuno dal mondo non viene qui E io invece mi lamenterei per il fatto che i calabresi vanno altrove Senza portare e trattenere qui l'energia che in realtà avete Per cui grazie a te di essere stato qui in nostra compagnia al workshop Grazie a te Richard Romagnoli e grazie a tutti quelli che hanno potuto vedere questa intervista E alla prossima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti